Amici sportivi di Red 3, ben ritrovati con lo sport e con il campionato allievi categoria elite. Di fronte oggi a Catanzaro ci sono la DGS De Giorgio e il Kennedy. Una DGS De Giorgio che si presenta all'incontro fortemente rimaneggiata, sono molti gli assenti. Una vittoria fin a questo momento per la DGS De Giorgio. Tre sconfitte e adesso la partita con il Kennedy del Catanzaro. Le squadre sono già in campo, la scelta è lo scambio del saluto da parte dei giocatori, dei giovani atleti. Ricordiamo che la categoria allievi gioca sulla lunghezza di 40 minuti per tempo. Il saluto alle panchine per poi iniziare. Vi do adesso innanzitutto anche le formazioni. La DGS De Giorgio si schiera con Avena, Abruzzese, Eustorgio, Fondacaro, Nobile, Grevis, Ferrari, Greco, Chiacchio, Quintino, Greco e De Rosa. Disposizione poi Maratia, Pasquarelli. Una formazione quella della DGS De Giorgio, molti gli assenti. Adesso veniamo alla formazione di casa con Costantino, Rubino, Iera, Nocera, Critelli, Gallelli, Iemma, Dolce, Rapeli, Nimpo, Pizzichemi. A disposizione Fricio, Battaglia, Macia, Elia, Mattia, Morello, Scalzo, Nistico e Critelli, Antonio. Tutto è pronto per il calcio di inizio di questa giornata del campionato allievi categoria Elite. A battere il calcio di inizio sarà il Kennedy in completa tenuta viola. La DGS maglia gialla, calzoncini e pantaloncini neri. Si attende il fischio dell'arbitro. Ancora qualche attimo di attesa. Siamo ormai pronti. Dunque trasferta importante con formazione rimaneggiata per la DGS De Giorgio, ma ovviamente speriamo come sempre una bella partita e in un buon risultato. Consulta il cronometro il direttore di gara. Annota qualcosa sul suo taccuino personale. Ed è pronto a dare il fischio di inizio dei primi 40 minuti. Con la battuta lunga subito a cercare un attaccante il Kennedy. Palla che però finisce in fallo laterale. DGS De Giorgio guidata in panchina dal mister Rinaldi. C'è questo lancio con questa tentativa di verticalizzazione. Fa buona guardia la difesa della DGS De Giorgio. L'appoggio di De Rosa per Fondacaro che allarga. Prova uno scambio con Ferrari con Greco Quintino. Buono l'allargo del centrocampista della DGS De Giorgio a cercare Grevis. Contrastato da due difensori, la palla finisce in fallo laterale per la rimessa a favore degli ospiti la DGS De Giorgio. Già battuta. Fondacaro allarga. Poi la palla viene rimessa in avanti. Prova ad impossessarsene Greco Quintino. Non ci riesce per l'intervento di un difensore. Resta in zona d'attacco la DGS De Giorgio. Fondacaro spinge, commette fallo ai danni del giocatore del Kennedy. Calcio di punizione per i padroni di casa. Battuta lunga. Questa palla viene tentato uno scambio il giocatore del Kennedy ma colpito davvero malamente la palla finita in affallo laterale. Fondacaro appoggia per il proprio portiere Avena. La controlla può tranquillamente appoggiare ora sulla parte destra dove c'è Bruzzese. C'è il pressing alto del Kennedy. Deve uscire fuori la DGS. Ancora il pressing se la cava bene Ferrari. Palla lunga da parte di Nobili alla ricerca dello scatto di Grevis che comunque mette a prensione al difensore di casa che è costretto così a concedere fallo laterale. Fallo laterale sulla tre quarti quindi in attacco per la DGS De Giorgio. La battuta a cercare il capitano De Rosa. Prova a liberarsi poi appoggia buona la sterzata. La palla messa in mezzo viene liberata dalla difesa di casa. Poi Greco Quintino ha un spiraglio. Prova la battuta a rete. Viene ribattuta ma ancora ora la DGS a pressare e a cercare di mettere nella propria tre quarti la squadra di casa. Può però alleggerire con questa rimessa. L'ultimo tocco è stato di un giocatore della Kennedy quindi rimessa per la DGS De Giorgio. Fondacaro. Fa ripartire la propria squadra da Avena. Poi ancora Fondacaro. Greco la tocca un attimo poi Nobile la manda in avanti per De Rosa che subisce una trattenuta quindi calcio di punizione da buona posizione per poterla mettere magari in area. questo quando sono trascorsi quattro minuti di questa prima frazione di gioco tra DGS De Giorgio e Kennedy. Il punteggio fermo ovviamente sul punteggio di partenza 0 a 0 Si vanno a posizionare in area anche le torri della DGS. La palla Ferrari va la mette in mezzo. C'è una troppo sul portiere che ha avuto anche qualche difficoltà nel farla sua. Per un attimo gli era sfuggito il pallone poi lo ha ripreso subito. Nulla di fatto per questa occasione per la DGS De Giorgio. Ora c'è un po' di batti e ribatti a centrocampo. Poi il giocatore del Kennedy riesce a metterla a terra, a appoggiarla per un accompagno. Il lancio subito lungo e cercare il proprio centravanti. Viene contrastato da Fondacaro. Fondacaro però commette fallo a giudizio del direttore di gara. Calcio di punizione a favore della squadra di casa del Kennedy. Campionato allievi categoria Elite. Nonostante per la DGS De Giorgio abbiamo dovuto registrare già all'inizio parecchie assenze. Comunque una squadra si sta dimostrando compatta anche con i nuovi entrati. di una rosa di qualità e una rosa equilibrata quella della DGS De Giorgio. Serviamo questo calcio di punizione per i padroni di casa. La battuta diretta in porta e c'è il gol. Si lascia forse sorprendere Avena da questo tiro al sesto minuto. Cambia il risultato e il Kennedy passa in vantaggio. Calcio di punizione è una battuta molto alta forse un po' troppo avanti Avena in questa circostanza. Peccato stavamo dicendo fatto proprio una vera e propria gufata in questo senso perché finora la DGS aveva dimostrato di essere abbastanza compatta con questo gol frutto probabilmente anche di un malposizionamento del numero uno della DGS De Giorgio ma la partita è ancora lunga sono soltanto sei minuti intanto è già stata sbloccata dal Kennedy 1 a 0 per i padroni di casa c'è ancora un calcio di punizione a favore del Kennedy a bene che può essere stato anche incannato dal vento che soffia non fortissimo ma che probabilmente anche cambiato un po' la traiettoria della palla in questo calcio di punizione si riprende il gioco ora con Fondacaro prova ad avanzare il centrocampista della DGS De Giorgio deve appoggiare su un compagno lo fa però in controtempo e la palla finisce in fallo laterale ora si lotta sulla tre quarti della DGS con il pressing da parte del Kennedy pressing che riesce con la conquista della palla è ancora in azione offensiva il Kennedy palla messa in mezzo provato l'attaccante dei padroni di casa ad inserirsi ma Avena esce e fa sua la palla lancia lungo subito a cercare De Rosa che ha un buono spunto poi non riesce a superare l'altro difensore che gli mette la palla in fallo laterale può alzare il proprio baricentro e portarsi in zona d'attacco ancora la DGS De Giorgio che ricordiamo al nono minuto è sotto di un gol per 1-0 non c'è azione fallosa giudizio del direttore di gara quindi Kennedy può uscire fuori palla al piede ora con il proprio centroavanti viene affrontato da Fondacaro non riesce a fermarlo ancora numero 9 che va sulla destra poi prova a mettere in mezzo non aggancia il compagno può uscire la DGS con Fondacaro che appoggia per Greco ancora Greco perde rosa lo scambio viene tra i due ancora Greco che prova a lanciare per lo scatto di Grevis troppo lungo non ha problemi ma il gioco è fermo infatti il direttore di gara ha comandato un calcio di punizione a favore della DGS avrà visto forse un trattenuto un'azione comunque fallosa ai danni dei giocatori della DGS quindi calcio di punizione Greco Andrea sul pallone no Bruzzese scusate pronto a lanciarla lunga Traversone che arriva in aria c'è una caduta poi arriva Grevis e la mette dentro per il pareggio della DGS De Giorgio questo al decimo minuto torna in parità il punteggio qui a Catanzaro tra DGS De Giorgio e Kennedy il Traversone che è riuscito a giungere sui piedi di Grevis che è riuscito con un bel piatto sinistro a gonfiare la rete quindi uno a uno sicuramente primo tempo i primi minuti scoppiettanti già due reti le due squadre si affrontano a viso aperto e al gol del Kennedy ha risposto Grevis per la DGS De Giorgio ora c'è un calcio d'angolo per i padroni di casa calcio d'angolo battuto in aria a cercare l'inserimento di un proprio compagno poi batti e ribatti c'è ancora corner a favore del Kennedy questo Rinaldi si sbraccia per dare indicazione ai propri giocatori corner per i padroni di casa battuta ancora una volta esce Avena riesce con la punta delle dita a deviare questi traversoni alti il vento poi ne cambia un po' la traiettoria mette in difficoltà non c'è fuori gioco ancora palla in mezzo libera la difesa della DGS di giocatori poi De Rosa con calma poi già per Bruzzese sbaglia il lancio in avanti ma poi Greco Andrea fa su la palla poi un lancio in zona dove non ci sono giocatori della DGS De Giorgio può uscire Costantino senza problemi osserva il piazzamento dei compagni il rilancio in tanti a cercare la palla poi la trova per un attimo Fondacaro poi è bravo il giocatore della DGS a prendere tempo non riesce però a servire un compagno può avanzare il Kennedy Ferrari esce palla al piede cerca Grevis l'autore del pareggio della DGS non riesce però l'attaccante della DGS a liberarsi dell'avversario torna a cercare di pressare alto il Kennedy Bruzzese ostacola il traversone ancora un traversone lungo ancora una palla lì in aria e la battuta ora è una buona occasione non ha trovato però il giusto impatto il giocatore del Kennedy la palla gli è schizzata con l'esterno del piede assolutamente fuori dallo specchio della porta 14 minuti sul nostro cronometro in questa prima frazione di gioco tra DGS De Giorgio e Kennedy campionato allievi categorie elite risultato per chi si fosse messo in ascolto su rete 3 DGS solo in questo istante di 1 a 1 per effetto dei gol siglati tutti e due questa prima forzione di gioco al sesto minuto per il Kennedy e al decimo Grevis per la DGS De Giorgio palla in area staccano di testa Ferrari è un avversario poi alla meglio un difensore del Kennedy che riesce a dar palla in avanti la gestisce bene il numero 9 può far salire la propria squadra poi ancora un lancio lungo ora c'è questo buon inserimento sull'out di destra al tentativo di cross la deviazione vediamo se è stato no non c'è stato tocco da parte del giocatore della DGS quindi è Avena che può rimettere con il fallo di fondo diretto sui piedi di un avversario palla che ritorna a mo' di ping pong nei piedi di Avena ora questo tentativo di far camminare sulla destra Bruzzese non riesce però ad evitare che la palla vada in fallo laterale si può riprendere con può riprendere con la rimessa in gioco il Kennedy lo fa in questo momento poi sbaglia il pallone gli rimbalza davanti lo può conquistare Greco Quintino poi la riperde Ferrari ostacola e si guadagna anche questa rimessa in gioco Eustorgio Buona l'aggancio ora del giocatore del Kennedy prova anche una conclusione che Avena sorveglia attentamente che finisca sul fondo Greco Quintino va buono il suo controllo riesce anche a superare un avversario non il secondo posizione di fuori gioco per il numero 10 del Kennedy in calcio di punizione a favore degli ospiti la Digesse De Giorgio Ferrari prova allo scatto di Bruzzese nobile che va a lottare rimessa in gioco per il Kennedy Palla che finisce sul fondo non c'è nulla per il direttore di gara quindi Avena che può riprendere tranquillamente battuta lunga si stacca un po' a centrocampo poi Greco Quintino in testa prova a cercare Grevis ora si inserisce l'avanti della Digesse in un primo momento è riuscito a superare anche un avversario poi c'è la difesa del Kennedy che riesce a liberare lancio lungo ora deve uscire fuori dalla propria area Avena Palla che finisce in fallo laterale ultimo tocco del giocatore del Kennedy rimessa per la Digesse De Giorgio con Fondacaro che prova un lancio non non gli riesce bene poi prova a controllare questo pallone deve lo controlla aspetta che vada in fallo laterale ancora Fondacaro riesce a intervenire poi nel tentativo di rilanciare colpisce un compagno e ancora il pressing alto del Kennedy non riesce ora la Digesse De Giorgio ad uscire dalla propria tre quarti Greco Quintino va ad inseguire un avversario poi Ferrari sbaglia il tocco troppo debole permette al Kennedy di andare alla conclusione debole però ma è ancora pressing forse nato dei padroni di casa una Digesse che diciamo in questi minuti non riesce a uscire fuori ora lo fa con questo break di Greco Andrea poi Greco Quintino subito a lanciare Grevis va allo stacco l'attaccante della Digesse buona la sua prova finora ora Fondacaro fronteggia l'avversario si lotta palla che finisce sul fondo ultimo tocco del giocatore del Kennedy rimessa dal fondo per la Digesse De Giorgio ottima la prova dicevamo di un po' di tutti i giovani atleti della Digesse che a questa partita si è dovuto presentare con molte assenze però finora è davvero una buona prova 1 a 1 sul campo del Kennedy sesto minuto passano in vantaggio i padroni di casa al decimo risponde Grevis per la Digesse De Giorgio un lancio lungo e all'ultimo istante la scivolata del difensore della Digesse palla in fallo laterale un po' di batti e palloni alti col tentativo ora che il direttore di gara ferma il gioco comanda un calcio di punizione visto forse una trattenuta di Greco comanda questo calcio di punizione a favore del Kennedy calcio di punizione dunque a favore del Kennedy siamo sempre sul risultato di 1 a 1 per i gol maturati al sesto minuto per i padroni di casa del Kennedy al decimo la Digesse De Giorgio la barriera tre uomini in barriera per Avena bisogna fare attenzione a queste traiettorie il primo gol è venuto proprio da un calcio di punizione così ci riprova il giocatore del Kennedy questa volta però la palla finisce innocua tra le mani di Avena Grevis che la spizza di testa però in zona innocua per il Kennedy Costantino una leggera pressione in più da parte dei padroni di casa ma sostanzialmente non possiamo registrare grandissime occasioni o comunque interventi dei due estremi difensori ora c'è questa buona verticalizzazione di Greco Quintino De Rosa che prova a lottare in aria finisce giù e c'è il calcio di rigore massima punizione decretata protestano i giocatori del Kennedy all'indirizzo del direttore di gara lo fa molto veemente il numero uno Costantino che viene allontanato dai compagni ci sono ancora proteste abbastanza vibrate da parte dei padroni di casa all'indirizzo del direttore di gara che ha comandato il calcio di rigore per l'atterramento in aria di De Rosa un bel passaggio filtrante di Greco Quintino per Grevis poi il passaggio a De Rosa De Rosa cade giù toccato probabilmente su un piede rimane ancora a terra il giocatore il capitano della DGS De Giorgio hanno protestato subito i giocatori di casa ora si rialza De Rosa che viene anche attorniato dai giocatori del Kennedy gli animi sembrano essersi calmati soprattutto quelli dei padroni di casa e quindi registriamo ora il calcio di rigore al ventiquattresimo minuto sul dischetto Greco Quintino contro Costantino dicesse che è così l'opportunità per potersi portare in vantaggio e completare una rimonta visto lo svantaggio al sesto minuto va Greco Quintino la battuta e il gol DGS De Giorgio che passa in vantaggio qui a Catanzaro sul campo del Kennedy con il rigore trasformato da Greco Quintino raso terra non molto angolato ma che comunque non ha dato scampo all'estremo difensore del Kennedy cambia il risultato una DGS De Giorgio con una formazione molto rimaneggiata ma che comunque i sostituti non stanno facendo rimpiangere almeno al momento quelli che possiamo definire titolari con una buona prestazione diciamo non si potevano registrare grandissime occasioni poi una fiammata improvvisa della DGS De Giorgio e il calcio di rigore trasformato da Greco Quintino si riparte ora con il Kennedy che proverà sicuramente a reagire buona guardia per Fondacaro che viene atterrato subisce fallo ora c'è un po' di nervosismo da parte dei padroni di casa che hanno protestato a lungo e abbastanza vehemente contro il direttore di gara per l'assegnazione del calcio di rigore per l'atterramento di De Rosa in aria e ancora proteste all'indirizzo del direttore di gara che invita i giocatori del Kennedy a calmarsi calcio di punizione per la DGS De Giorgio sulla palla Fondacaro battuta lunga a cercare ancora De Rosa e ancora De Rosa che finisce giù al limite dell'aria poi Grevis non trova la palla che finisce sul fondo costantino costantino alla battuta lunga Grevis che prova un pallonetto che finisce però sul fondo con il giocatore del del Kennedy che mette in calcio d'angolo Greco Quintino bravo ad evitare anche il fallo laterale poi però la riconquistano i giocatori del Kennedy c'è ancora un batti e ribatti a centrocampo Greco Quintino non riesce a tenere la palla può uscire ora il Kennedy chiude Ferrari poi Greco Quintino non riesce a trattenerla ora c'è molta più fisicità in campo si lotta su ogni pallone poi Greco Quintino lancia lungo a cercare Grevis che ha avuto anche un'altra buona occasione la DGS per magari aumentare il vantaggio fallo laterale per la DGS De Giorgio su De Rosa che lotta con il difensore riesce a conquistarsi un fallo laterale battuto l'appoggia per la palla in area finisce senza problemi nelle mani di Costantino fallo laterale a favore e gli ospiti perde palla ora il giocatore della DGS può ripartire il Kennedy fondacaro intercetta ancora fondacaro ora Ferrari la mette giù per Nobile scambio con Bruzzese ancora Nobile in avanti dove va ad avventarsi ancora una volta Grevis che si scontra con Costantino rimane a terra il giocatore della DGS vengono chiamati i sanitari per prestare le cure all'attaccante della squadra dell'Alto Tirreno Cosentino e ricordiamo che la categoria allievi gioca sulla lunghezza di 40 minuti per tempo sul campionato infatti allievi categoria Elite palla che era stata messa fuori da Costantino per prestare le cure al giocatore della DGS De Giorgio e viene restituita dal direttore di gara proprio all'estremo difensore del Kennedy che ora va al lancio lungo non lo effettua benissimo prova a staccare di testa Greco Quintino non riesce a trovare la palla poi ancora la DGS nel cerchio del centrocampo che prova in questo lancio lungo ad innescare i propri attaccanti se ne va sulla destra con una sgroppata abruzzese poi la mette in mezzo a cercare ancora una volta Grevis intanto è rimasto a terra crediamo abruzzese minuti preziosi secondi preziosi per la DGS De Giorgio che ricordiamo conduce ora per 2 a 1 ora i giocatori del Kennedy invitano il giocatore della DGS De Giorgio a rialzarsi l'arbitro il direttore di gara invita Abruzzese ad uscire dal terreno di gioco gioco che può riprendere con questo fallo laterale con una palla scodellata palla 2 dal direttore di gara con la DGS che la restituisce correttamente al Kennedy Kennedy che prova a imbastire da dietro lancio lungo sul quale si avventa nobile traversone messo fuori poi l'appoggio del giocatore del Kennedy è completamente sbagliato può soffrire di questa rimessa in gioco ora la DGS ancora il Kennedy in zona d'attacco non riesce a liberarsi l'attaccante del Kennedy ora c'è questa ripartenza di Greco Quintino fermato in extremis con un take in scivolata chiedeva un fallo attenzione a questo inserimento a vena buona l'uscita finisce a terra il giocatore del Kennedy non c'è fallo azione pericolosa dei padroni di casa improvvisa verticalizzazione che aveva messo l'attaccante del Kennedy a tu per tu con a vena che questa volta ha scelto benissimo il tempo ed è riuscito a sventare la minaccia rimane ancora a terra il giocatore del Kennedy ora si è rialzato palla e mezzo colpo di testa innocuo per le mani di Avena incompetente è stato è stato la stessa cosa è stato l'uomo nostro a terra e non ha fermato il gioco l'uomo l'ora l'ha fermato il gioco che va ad assincerarsi delle condizioni del numero 10 del Kennedy che si è visto proprio all'ultimo istante soffiare la palla dalle mani di Avena ha avuto questa buona occasione per riequilibrare le sorti dell'incontro che al momento ricordiamo vede in vantaggio per 2 a 1 la Digest De Giorgio ora il pressing di Greco Quintino induce il difensore del Kennedy a mettere la palla in calcio d'angolo ci stiamo avvicinando alla fine della prima frazione di gioco Digest 2 Kennedy 1 Greco Quintino dal corner la battuta viene anticipato però questa volta il giocatore della Digest De Giorgio prova a ripartire il Kennedy in velocità riescono a fetturare lo scambio poi c'è questo fallo e c'è il giallo per Nobile fallo tattico per il giocatore della Digest De Giorgio per evitare la ripartenza pericolosa da parte del Kennedy che ora può soffrire di questo calcio di punizione la palla che si è oltre a vincere la palla mentre la palla verrà scrollellata in aria, così esce Avena proprio sull'aria, poi la conclusione fuori dallo specchio della porta, un'altra buona occasione per il Kennedy questa volta, l'uscita di Avena non è riuscita a far solo la palla che è finita sui piedi di un giocatore del Kennedy che a porta vuota ha provato la battuta, per fortuna della DGS da Giorgio è finita fuori dallo specchio della porta, ora c'è un giocatore della DGS a terra, come sempre si avvicinano anche i giocatori del Kennedy, in questo caso il capitano, l'arbitro fa entrare i sanitari della DGS da Giorgio per prestare le cure al giocatore a terra, si chiariscono anche il capitano De Rosso con il numero 8, una stretta di mano, si rialza il giocatore della DGS, pronto a rimettere il pallone in gioco Avena, peccato per quella piccola indecisione sul primo gol, poteva essere forse evitata, va bene così la DGS conduce 2-1 qui sul campo del Kennedy a Catanzaro, per effetto dei gol siglati da Grevis e da Quintino sul calcio di rigore. Ora un po' troppo all'indietro, la DGS è proprio tutta la squadra è quasi al limite dell'area, non c'è pressione sul centrocampo, all'argo la palla che viene cercata di essere messa in mezzo dal numero 7 del Kennedy, lotta, estorgio, palla che poi... intanto il direttore di gara ha fermato il gioco, e ancora una volta i giocatori del Kennedy vanno a protestare, sono in 3 o 4 all'indirizzo del direttore di gara. Le proteste ormai sono quasi su ogni azione, il calcio di rigore ha segnato alla DGS e ha innervosito un po' i padroni di casa, che ora protestano su ogni pallone, su ogni decisione arbitrale. L'ultimo tocco è di un palla fuori, ma l'ultimo tocco è di un giocatore del Kennedy, fallo laterale per la DGS De Giorgio. De Rosa la controlla, l'appoggia indietro, prova a gestire ora il pallone, la DGS, buoni lavori di De Rosa, non trova, non accompagno. Palla in out, l'ultimo tocco è di De Storgio, rimessa quindi per il Kennedy. Si lotta sull'out. Siamo ormai agli sgoccioli di questa prima frazione di gioco, è importante, sarebbe per la DGS De Giorgio andare negli spogliatoi con il risultato di vantaggio 2-1, ma seguiamo questo tentativo di innescare il attaccante del Kennedy. di difesa però della DGS che fa buona guardia. Ora De Rosa non ci pensa su due volte, lancia più lungo possibile. Palla irraggiungibile per Greco Quintino. Ferrari prova, cerca uno scambio con Grevis e in questo momento l'arbitro manda tutti negli spogliatoi e la DGS ci va con il risultato di vantaggio di 2-1. Ci sentiamo tra poco qui su Red 3 DGS per i secondi 40 minuti a disposizione di questa partita tra DGS De Giorgio e Kennedy. A tra poco.